Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Scritto alzi! Sì, a vicino ulti! Scritto alzi! No, non, non, non. Si, si, si! No, I fused ulti. I fused ulti. Scritto alzi! Sust, break the wall and wait! B Si, sì, sì, yeah, that's mine! Wait, wait! That's idiot! That's idiot! This wave for the thermites and its fuso. We have one no. Let me pop one more so, let me pop one more so. I have another nguky in a second. Nuky, nuky. Let me bat, let me bat. Not dead. I'm chasing the skull, we need the skull. Yeah, that team just got torched. Oh my fucking, I don't know. We can queue up. Huh? Yes, I got it. You're so funny. Oh, I'm chasing you. What's that? Hey, what's that? What did you say? 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 I'm charging for the trigger. Quattro Quattro è stato nel passaggio di L&T Ma non è mai parlato, la passaggio di L&T è stato il passaggio di L&T Quando in L&T sono i miei progettori, gli hanno messo il passaggio di L&T ha detto che la passaggio di L&T è stato iniziato gli scolini. Ho messo i miei progettori di L&T è un'unica faccio un'unica non ho vissato ma non ha fattato con il trattato non ho capito se non hanno capito se non lo so e se non lo soppi se non lo soppi Wow! Come on! Wow! Sii co sugi il da no! Noi! Sii co sugi il da no! Sii co da no! Questo bravo! Todo bravo...! eed with the sound? Chei conico! YOU GUYS INURANCE! Sì, non è stato un po' di più, non è stato un po' di più. i got him nice can we get the kill? you got the res i have 10 heavy bullets team's inting market team's inting market right now too go there go there go 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 they wiped they wiped it's fine stick it i got one my corner i'm batting i'm batting last squad last squad needed us i'm swinging this here one 50 on her eyes 50 on her eyes here one let's fucking go get shit on let's go get shit on bro that was great really good this building's not loaded by the way i'm looking to fight boys there's only one under us right i know i'm coming i'm coming i'm on stand on us why are you slow? i have 3 points that's the CR yeah i've won yeah that's ok thank you he was robi so he won I hope don't.. he's going to get сознlit oh my god now I've turned it I'm coming sell your letter I've knocked here He's gonna play knock here He's gonna play knock here He's gonna knock He's naising himself He threw a nade himself I have no knock Locking Sì, non lo so, non lo so. Ah pure Ah 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 Kimò! Comeé! Ok! Ok! Comeé! Asi! Chegato! Lig! Lig ha visto a non tempo! Non sono già tui. Ah, non sono ! Ligga! La mazza! La mazza! La mazza! a ai a a o a 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 yeah and just kind of the things that they do with him and how they have like they go over like an hour and a half of film like almost every day like an hour an hour and a half of like strats and guides and all that kind of stuff I also talked I did talk to FaZe like everything's totally fine in FaZe they're totally down to get every Oh Jesus Christ Oh brother Well I 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